eckelfio vai piano oh oh ooh piano curiamo i particolari ragazzi equilibrio equilibrio in tutto ciò che facciamo la pariata ...dove ci ritroveremo faremo un po' di schippate, ok? Accentuiamo... ...dove da te e lui, ok? Dai, lo rifacciamo! Sali, forte! ...un po' uno contro uno! Esce chi viene dalla zona! Linea! Linea! Per largo il Zapato! Sali! 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 Si! Occhio occhio basta! Sali! Sali! Vai sopra! Sali! Non gioco, sei che hai dosato! No, no, no. Aspetta, bene, ti arresti. Gianni! Ok mister, ci sono! Mi servono già, mister! Ok! Sali, sali! Accompagna, accompagna! Ok! Ehi! Vai un giro, vai un giro, vai un giro! Buona! Buona giornata! Buona giornata! Un giro! Di a qui di a qui! Bravo! Vai! Vai! Dai! Via! 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 Andiamo! Via! Cambia! Via! 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 Vai Mauro, vai Mauro! Come in! Bravo! Attacca, attacca, attacca! Atacca! Bravo! 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 Uomo adesso! Uomo! Uomo in su! Oh! Metti! Secondo! Ehi! Metti! Nooo! Angolo! Dai, Giro! Dai, dai, uno a uno! Uomo, matte! Nooo! Nooo! Bravo, per te! Ehi, 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 ehi! Non c'est valuto! Ca va Perfini! Grazie a tutti.